Il biologico pugliese discena a Norimberga dal 13 al 16 febbraio in occasione di Biofac, la più importante vetrina internazionale del settore biologico. La Puglia, con 130.000 ettere di superficie coltivati biologicamente, è la seconda regione in Italia e sono circa 5.000 gli operatori biologici. Circa 30 invece sono i produttori pugliesi presenti in fiera nell'area riservata alla regione Puglia, grazie al lavoro congiunto dell'area politica per lo sviluppo rurale dell'assessorato e le risorse agroalimentari e a Biolitalia, l'associazione che si occupa di sostenere le attività di ricerca, sviluppo, formazione e assistenza tecnica dei produttori biologici. Per tutte le aziende che non hanno potuto partecipare con il proprio stand all'evento ma che ugualmente hanno voluto cogliere le opportunità commerciali offerte dalla Kermess di Norimberga, Biolitalia ha organizzato una missione grazie alla quale 15 produttori pugliesi del settore biologico hanno potuto visitare alcune grandi aziende tedesche della distribuzione ed usufruire della possibilità di incontri commerciali con gli operatori della domanda. L'idea di tornare ad una coltivazione che recuperi un rapporto con la natura che sia più organico, più sincero, che non abbia bisogno delle stampelle della chimica è un'idea che combacia con la nuova filosofia con la quale l'agricoltura pugliese ha voluto tornare al centro dell'attenzione. Nel programma di incontri tenutisi nella quattro giorni di Biofac ha riscosso un particolare successo il workshop che si è tenuto presso il Salotto, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Tedesca dove i buyer tedeschi hanno incontrato gli operatori dell'offerta biologica pugliese. Da questa fiera ci aspettiamo molto perché la Germania è un mercato molto attento al prodotto di qualità e nel particolare al prodotto di qualità biologico, quindi dovremmo riuscire a acquisire i nuovi clienti e a portare una parte della Puglia di qualità anche qui in Germania. Di rilievo è stato anche il convegno dal titolo Mercati tedeschi e opportunità di business un'ottima opportunità di informazione e diffusione di know-how del mercato internazionale capace di garantire un supporto ai produttori biologici pugliesi che intendono affacciarsi sui mercati esteri. BioL'Italia vuole offrire alle aziende l'opportunità e l'occasione non solo per una promozione e valorizzazione commerciale dei propri prodotti ma anche per trasferire un messaggio di affidabilità, di fiducia nei confronti del prodotto biologico italiano in particolare di quello pugliese.